Il mio appello è questo, voi avete visto con grande chiarezza che non ci sono coalizioni, sono leader di partito che si mettono insieme, parlo di Salvini, Meloni e Berlusconi, ma che non reggerebbero la prova di governo un minuto perché non concordano su nulla e tant'è che Meloni e Letta oggi non sono venuti come leader di coalizione, hanno parlato della posizione del loro partito che è uno dei tanti partiti di quella coalizione, la stessa cosa ha fatto Letta con Frato Gianni Bonelli addirittura dicendo non ci farei un governo insieme, cavolo ci stai chiedendo di votarli, come non ci fai un governo insieme? Questo marasma deve finire, deve finire perché davanti abbiamo un periodo che è tostissimo, molto complicato e rimangono irrisolti tutti i nodi che sono quelli di un paese normale, in primo luogo essere capaci di far accadere le cose, implementare la cura della gestione e dell'amministrazione. Per questo noi gli chiediamo un voto perché abbiamo un programma unico, chiaro, sediamo in Europa nello stesso gruppo, non in quattro gruppi diversi o tre gruppi diversi come il PD, abbiamo un'idea pragmatica della politica, vogliamo il salario minimo perché è giusto, ma vogliamo rivedere il reddito di cittadinanza, siamo a favore negli investimenti nelle energie rinnovabili, sì ma sappiamo che ci serve il gas e quindi andiamo a piombino a discutere del rigassificatore. Questa è l'agenda Draghi, l'agenda Draghi nella sua essenza è quello che Draghi ha fatto in Parlamento, dire dei sì di no e dei no e spiegare cosa ci possiamo permettere e cosa no e questa è secondo noi l'essenza della politica, ciò che ci manca da trent'anni, non esiste, non esiste un paese diviso tra Almirante e Berlinguer, intanto perché siamo andati avanti nella storia ma perché poi in mezzo c'erano la democrazia cristiana, il partito liberale, il partito repubblicano, il partito socialista e Letta faceva parte della democrazia cristiana. Non esiste dividere il paese tra Novax, quelli che non votano il PD e si vax, quelli che votano il PD. Noi abbiamo fatto uno sforzo collettivo enorme, quelle persone erano di centro, di destra, di sinistra ed è svilire dire una cosa del genere, questo paese va riappacificato con un'agenda repubblicana, con uno spirito repubblicano, sapendo che le sfide che abbiamo davanti sono grandissime e noi vogliamo andare avanti con l'agenda Draghi, con il metodo Draghi e possibilmente anche con Draghi. Grazie. 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 Grazie.